A quanto pare hanno cacciato fuori video ricostruito che abbiamo visto pochi giorni fa Quello dove appunto c'è il pokémon misterioso Quindi potremo vederlo Bellissimo E pensare che potremmo visitare un'ambientazione del genere in leggende pokémon Potremmo davvero farlo Uuuuh eccolo E' Zorua E' Zorua Il cuore del cuore del cuore è rosso e svegliere Oh, credo che si avvicina in questo modo E' amicurabile Il cuore blu ha spiegato il cuore e il cuore del cuore del cuore è così bello I suoi occhi sono giovani e bianchi Cosa è? Uuuuh 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 E quello è Zorua Madonna che belli Mamma mia che bellino che era Zorua E finisce così? Uuuuh Uuuuh Uuuuh